Viaggiavano in moto lungo l'autostrada del sole con quasi 4 chili di cocaina nello zaino, droga che una volta venduta avrebbe fruttato circa 400 mila euro. Ma il carico illegale è finito nelle mani della polizia e per uno dei due corrieri sono scattate le manette, mentre per l'altro scappato è ancora caccia all'uomo. È successo lungo la corsia a sud del tratto tra Arezzo e Valdarno, dove gli agenti di una pattuglia della sottosezione della postrada di Battifolle hanno notato i due uomini a bordo del mezzo ad insospettirli proprio lo zaino voluminoso tenuto sulle spalle dal passeggero. Così i poliziotti hanno deciso di verificare meglio ed hanno intimato ai motociclisti di fermarsi all'interno dell'area di parcheggio Laterina. Durante le fasi di ispezione il passeggero della moto ha posato a terra lo zaino e in pochi istanti è scappato via scavalcando la recinzione dell'autostrada e dileguandosi nei boschetti circostanti. Dal reparto della polizia di Firenze si è alzato in volo un elicottero che ha perlustrato la zona, ma per il momento del fugitivo non ci sono tracce. All'interno dello zaino gli agenti della postrada hanno trovato nascosti in una scatola di scarpe tre panetti rivestiti di nastro adesivo marrone dal peso di circa un chilo ciascuno e un quarto panetto più piccolo degli altri rivestito di pellicola trasparente per un totale di 3 chili e 780 grammi di cocaina. Il conducente della moto, un cittadino marocchino 43enne con precedenti ma regolare sul territorio nazionale, è stato arrestato e trasferito nel carcere fiorentino di Sollicciano. Moto e droga sono stati sequestrati mentre proseguono le ricerche del fugitivo.